non me l'aspettavo, mi stavo andando lì di tranquillo, mi sono trovato quel coso che lo spara a spruzzo uno scatolo, c'è Amazin io ho solo premuto un tasto a me mi sono usciti due tazze nere tu quando premi dici premo nelmeno siamo reati ok, ho chiudato tutto mi hai letto le mail, mi hai leggerle le mail non ho i mail d'amore guarda scia con la sinistra c'è morto c'è in mano qualcosa ricarico lo prendo io questa ragazze, ci penso io a vero, li metto qua venite, venite ah no, bugia, non dovete venire uno con me si per forza sciagon sciagon che cosa verde l'ho ucciso lol ah e quindi spendendolo tutto la smette si si, andiamo ah difendetemi prendete tu questa pochia io voglio curarti ma non mi stanno dando il tempo ok ho finito un attimo ok c'è una azione se li vivi? si 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 qui non c'era niente no? sono pistole non c'è le correnti ok occhio, occhio tu attento giù mi arrivano da giù pure ok ok a sinistra ci sono vite e munizioni non c'è se serve ciò vai prendi munizioni prendo io? si si prendete tu si si no siamo full no 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 con le pistole sciaga tutto d'altro ragazzi è andato a sottare metti in una terra per te però ben corrale sopra dobbiamo andare qua dobbiamo andare chiudiamoci dentro chiudiamoci dentro vieni vieni sto per premere il pulsante attenzione oh no questo è già il giochino da aspettare prima qua ho finito scrive 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 ci arriveranno aspettiamo ci guardiamo muoiono tutti tutti i puntini rossi ci sono i maledetti che sparano qualcosa ci sta contattando psionicamente mi sa vado a prendere quella vita sinistra ho qualcosa subentrato nelle nostre comunicazioni possiamo uscire thunder occhio vai vado sempre in mezzo si deve mettere sempre sempre ho fatto una nuova vita chi è si sente qualcosa tipo che cadono pronti 3 2 1 qui c'è una cosa per te buzz via merda finito finito il super giochino ci è andata bene no merda mi riesco no non morite tutti mi prego l'ho ucciso quello no dietro di me iniziate a curarvi perché sennò un colpo sbagliato e morirete a me cazzo le bombe di merda dove sta sto bombarolo sono morto io a destra a destra a destra a destra correte vieni bravi cazzo cazzo però devo che cazzo il